Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un video che mi è stato richiesto su come salvare i jogger colorati contenenti tutte le varie modalità competizione o comunque tutti i completi delle modalità competizione Allora qui ci sono tutte le modalità competizione i jogger neri per chi lo volesse sapere li trovate qui in autoscontro e i jogger colorati li trovate o in a terra e sotterra per esempio qui ragazzi finché è morte non ci separi trovate il giubbotto antiproiettile colorato e i jogger colorati anche e comunque dicevo a terra e sotterra per esempio ci sono i jogger di vari colori comunque ogni attività ha un suo completo qualcosa che magari ci può interessare e in questa maniera noi potremmo salvarlo tranquillamente anzi non potremmo possiamo salvarlo tranquillamente quindi queste qui ripeto sono tutte le modalità competizione quelle che avete visto e passiamo al glitch in sé allora prima di entrare nelle modalità competizione dovete tenere impostato tenuta da gara nessuna quindi andate sul menu pad e impostate tenuta da gara nessuna ragazzi ricordatevelo poi giustamente andate nell'attività che volete scegliere io in questo caso ne prendo una qualunque autoscontro territoriale autoscontro insomma quello che cazzo è e entriamo in questa attività ovviamente cercate di trovare attività che si avviano in due oppure se magari ci sono delle attività che si avviano in quattro lo fate con amici io a questo punto vado ad invitare qualcuno con la speranza che entri qualcuno ragazzi quindi andiamo ad invitare bene bene ci siamo già già una persona è entrata e a me basta solamente questa persona ragazzi mi dispiace per lui purtroppo però insomma io voglio salvare diciamo questo completo no? per fare il video più che altro per farvi vedere a voi come funziona quindi dovrò lasciarlo nell'attività insomma allora ragazzi i completi sono questi quando magari siete in due squadre c'è quell'arancione con il giubbotto i guanti arancioni e questo blu ma perché siamo in due squadre se fossimo in quattro squadre i colori sarebbero arancione, blu arancione insomma viola, rosa e verde a questo punto quando siete dentro l'attività che cosa dovete fare? aprite il menu interazione andate dove c'è la tenuta da gara e premete la freccetta verso destra la tenete premuta un attimino insomma non serve che siate lì 20 anni per capirci e a questo punto premete il tasto PS e andate sul lettore multimediale se ce l'avete oppure andate su Spotify su YouTube su quello che avete e avviatelo vi dirà di mettere in sospeso GTA gli direte di sì e poi ritornerete in GTA come sto facendo io ragazzi vi comparirà questo messaggio accetterete il messaggio e vi troverete in sessione con il completo che avete diciamo scelto di portare fuori dall'attività ragazzi è veramente semplicissimo per i jogger grigi e i jogger rossi c'è un altro procedimento che se a qualcuno interessa lo porterò per farvelo vedere detto questo ragazzi che altro aggiungere fatelo perché il glitch è veramente facilissimo per tutti quelli che non lo sapevano questo è l'unico metodo per portare fuori diciamo i jogger dalle attività presto porterò anche come salvare il borsone detto questo un saluto a tutti al prossimo video ma che ne sono le due mia wow ciao 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 ciao